Il Festival delle Resistenze alla terza edizione ha ampliato i confini temporali e spaziali. Non più una sola piazza, ma più percorsi in città fatti di parole e fotografie. Siamo stati interpellati da parte degli organizzatori dell'intera manifestazione con una proposta di presentare anche noi qualcosa dal punto di vista fotografico. Ovviamente l'impatto, essendo appunto un circo fotografico, è stata una scelta dovuta prima di tutto a un aspetto estetico, un aspetto di qualità fotografica. Sgombriamo il campo da ombre inopportune. Le associazioni locali quest'anno l'han fatta da padrona. Qui hanno scelto di mettere in campo, in un'inquadratura ripetitiva e chiusa, monito a non scordare pagine difficili di storia, gli occhi parlanti di partigiani, dei nomi evocativi, incontrati in tutta Europa da Danilo De Marco. Mostre fotografiche accanto alla rassegna Drinkabook, protagonisti assoluti i libri, presentati dai loro autori, ma anche i fumetti. Abbiamo deciso di partecipare in maniera più variegata, più complessa e far non più parlare noi, che siamo gli esperti di fumetto, che portano le nostre conoscenze, ma portare le nostre conoscenze a un gruppo di ragazzi giovani che vanno dai 15 ai 23 anni, coordinarli in un progetto, facendoli lavorare sulla tematica della resistenza quotidiana dal loro punto di vista. Ed ecco Bla Bla Bla, un giornalino spassoso ma profondo, con storie illustrate di resistenza quotidiana. Emozioni e valori di singoli individui, racchiusi in scatti fotografici, hanno permesso alla gente di un quartiere di rivelare infinite storie, che intrecciate tra loro hanno creato un nuovo album di una nuova più ampia famiglia. Questo è il progetto Family Book, un laboratorio fotografico capace di far dialogare generazioni diverse, il tutto racchiuso in un container. Perché insieme al tendone e alle piazze, pure il container è simbolo del festival, presente quest'anno anche a Merano, come punto informativo per conoscere le iniziative, come il percorso Pietre d'Inciampo. L'idea era quella di restituire, di far ricordare in città i morti nei lager nazisti. Occasione per una passeggiata, anche nella memoria, in ricordo dei deportati. È impossibile pestare sopra questa pietra senza chiedersi per quale motivo ci sono queste pietre. Un grande artista e le scuole di Merano hanno pensato di creare un percorso. Abbiamo pensato giusto noi di Tangram organizzare proprio un approfondimento. 33 San Pietrini di Ottone solo a Merano. Più di 22.000 in tutta Europa, per un percorso capace di abbattere i confini in nome della memoria. Per gli assetati di cultura non c'è tempo da perdere. Nella Sala Civica un altro appuntamento della rassegna Cinema Resistente. Protagonista è un grande regista, capace di raccontare, non solo in pellicola, il realismo all'emiliana. Un suo romanzo autobiografico parla di identità. Il punto di forza della resistenza non è tanto nell'obbedire, nel correre dietro una bandiera, ma nel difendere e nel proporsi attraverso la propria identità, attraverso quello che si fa. Quindi dare alla propria professione un'identità, che non è soltanto la professionalità che è omologante. Il tempo scorre veloce al festival. Al calar della sera la piazza si rianima in un avvicendarsi continuo di pubblico diverso. La rilettura di un testo classico, Macbeth, nell'attesa di un nuovo incontro tra due grandi relatori. L'assegnazione è diventata anche la cultura dei giovani, che non si ribellano più, ma si rassegnano. Perché non hanno come controparte un'altra volontà, che una volta si chiamava il padrone, perché padroni e operai sono dalla stessa parte. E hanno come controparte il mercato. E quando c'è il mercato come controparte, con chi te la prendi? E la piazza Matteotti ancora una volta si riempie dei cittadini attivi, di giovani pronti a riflettere, interrogarsi, ascoltare parole importanti, come libertà e fede, in contraposizione tra loro o sinonimi. Un festival che resiste al tempo e al maltempo, un riparo anche sociale per la comunità, che ha seminato e raccolto cultura. Forse la cosa più significativa di quest'anno è stato proprio il lavoro degli orti. Per un mese, piazza Matteotti è stata occupata dalle cassette degli orti che hanno fatto gli abitanti, che è un modo bello di fare appunto tessuto sociale e di coltivare insieme anche i diritti di cittadinanza. Chi ha seminato bene, dando un esempio di come fare tv in modo indipendente, è Bif, testimone a suo modo di storie di giustizia e resistenza. Pure lui partigiano, ma in senso metaforico. Azzardo, faccio lo snob. È un tipo di televisione che resiste la resistenza a uomini e donne, al mondo di uomini e donne. Quello in qualche modo sento, non solo da solo, però mi sento un partigiano su questo. Cioè, raccontare il mondo, cioè, raccontare quello che è un mondo che va oltre uomini e donne, che forse non esiste. Dalla tv al cinema, con un film che parlerà di mafia presto in uscita. Ma siamo già al futuro. Nell'aria l'eco di parole importanti, pronte ad essere pronunciate ancora più chiare e forti nella prossima edizione del Festival delle Resistenze. Il tendone intanto resta vuoto, ma solo in apparenza.